Cloud9 che sta a significare come al settimo cielo, quindi una canzone che parla di grande felicità, partiamo da questo, la canzone di Jamie Rockway che è con noi. E quindi con questo, abbiamo chiesto di creare Cosmic Girl, quindi siamo arrivati a Cabo de Gata, in Espania. Almeria. Almeria. In Spagna. Quindi siamo arrivati a fare la cosa, come vedete dal video, e poi siamo fortunati a trovare Monica Cruz, che era un delight, il perfetto. Sì. Just lovely, and for me, so happy, and look, I mean, she's dancing with Joaquin Cortez, you know, she's one of the best dancers of all. 20 years. La ragazza che ormala è una ballerina di Joaquin Cortez. La macchina, l'almeria, volevamo ricreare, insomma, quella gioia, quella positività, quella presa bene di Cosmic Girl, no? La macchina è sua, le macchine sono sue, io sono sempre molto curioso. Sì, due di queste, questo è un American Connecticut car, da 1971, 280 SE 3.5, la Mercedes V8 Mercedes-Benz, with the American spec headlight, so we put the Cosmic on it. Yeah. It's just some fun, you know? Why not? And look, come on, give me a break. Stai dicendo praticamente mo, ma mo, no, no! Would you not have Monica in a Mercedes Mercedes-Benz 30, . C'hai Monica della Mercedes-Benz 70, and then... ...vent'anni! And then the joy is... that the place here is, the Gypsy community. Ah, il posto della comunità Zingara. Il Gitanos, come la chiamano loro. Non lo so, quindi tutti che vedono, anche il barman, il boss, la sua figlia è qui, e quindi vogliono essere in video, ovviamente. Sono tutti dalla comunità giusta. Sì, assolutamente. Non iniziare a chiamare ogni volta, ok? Inoltre ci stiamo facendo la danza. Il disco ha dei suoni molto, molto anni settanta. Perchè sembra un disco degli anni settanta con i suoni del duemila. Sì, sembra un disco degli anni settanta con i suoni del duemila. Sì, ma penso che questo viene dal fatto che abbiamo magari 25, 26 suoni vecchi, ok? Juno 6 e Jupiter sono dei sintetizzatori. Lui ne ha 25, 30 di quell'era, no? E quello dà un suono, sì. Quindi sicuramente quello dà il suono. Io voglio sapere chi lo sta chiamando, però. Sì, sono andato, basta, perso. Sì, sì. No, abbiamo avuto un po' di sintetizzatori, e sintetizzatori, e per cui abbiamo iniziato questo album. Abbiamo bisogno di ottenere tutte queste cose servizi. Qua è una cosa analoga. Ora, puoi andare in i pro tour e vedere le ricche di e questo e questo e questo. E fare la cosa. Ma il sonore del calma che viene dal l'ultimo. Il sonore del calma, che viene dal l'ultimo. Sì, è una cosa diversa. Sì. And then what we do is we take that from there on to half inch tape. Then we have to get the tape, and then back into the machine again. Ah, è su nastro l'hanno messo, addirittura. Quindi non soltanto macchine d'epoca, ma anche strumenti. Anche strumenti d'epoca e prima di iniziare questo disco abbiamo fatto il tagliandino, no? A tutti i sintetizzatori perché in realtà i computer di adesso, i programmi per fare musica simulano, no? Però diciamo non è la stessa cosa. E non è la stessa cosa neanche registrare su un hard disk o su un nastro, no? E l'ha registrata sul nastro, no? Sul nastro. Come vai lui che è inglese e sembra così poco inglese, almeno nel modo di cantare e di suonare? Si dice che sei british, ma non suonare british, almeno quando si cantano. Ah, beh, non c'è nulla a fare. Sono mezzo portoghese. Io sono anche mezzo portoghese, se poi devo dirla tutta. Certo. È una domanda invece questa che ho in testa da tutta l'intervista, sicuramente verrà una male. Nel senso che volevo chiederglielo da vent'anni, ma è la prima volta che lo vedo. Quando è arrivato lui la sua musica vent'anni fa, sembrava arrivare da Marte. Cioè non c'era uno prima che era già miroquei. È arrivato ed è già miroquei. Cioè che cosa ha ascoltato? Da dove è arrivato? Sì, è vero che guida anche gli elicotteri al brevetto. E tu anche guidi helicotteri? Sì, no, io volgo, ho una licenza. Sì, sì. E la collezione di cappelli a che punto è? So che l'aveva tipo 30.000 una volta, un numero impressionante. A un punto aveva 30.000 hats. Oh, no, 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 no. Non 30.000, magari 250 set of trainers. 250. Ah, di scarpe. Ha più scarpe da ginnastica che cappelli. E c'è qualcuno che gli insegna a ballare, perché lui ha sempre avuto anche un modo di muoversi curioso. Anche quello da Marte. Anche quello da Marte. Anche quello da Marte. Anche per la danza. Hai un trainer? No, no, no. Non, non. Non, ma non. No, ma non. Sì, ma io ti ho una storia divertente. Ma un'altra storia. Idemi, quando eravamo da ginnosti, e ho chiesto di scrivere per me. Si, hai detto, Tavamo un hit di un'altra parte. Ma un'altra parte. Ma un'altra parte. Ma un'altra parte. E tu hai una magia intimità. E poi, quando eravamo da ginnosti, ho avuto una ginnostrazione di danza. training? I said no. She said how can we do that? You have an internal magic. Bless her soul. She said so. Yeah, to me. Can I have that in writing? But because she knew, she said there's something in it that we just move together, you know? And we made this up on the spot. And she was so great. Sì, no, dice che quando ha dovuto lavorare appunto con questa Monica che balla, lei gli fa, ma tutto questo lo ha detto facendo delle mosse pazzesche. Bellissime, certo. Mi mando, dice, lei mi fa, senti tu sei educato in maniera classica, ballo classico. Lui gli dice, no, guarda, io non ho mai fatto niente. E fa, guarda, devi avere una magia interna perché mi riesce a fare. Cioè lui ha detto, senti, me la scrivi. Ve lo puoi certificare. I put it on the wall. Esatto, come se fosse una laurea. Abbiamo finito. Come si pronuncia il disco? Automaton? Automaton? What's the correct pronunciation of that? Automaton. Automaton. Jamil Rockway, Radio DJ. Thank you very much. Thank you, Jason. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. A domani.